Tutto è partito dalla denuncia sporta mercoledì scorso alla polizia postale delle comunicazioni dall'autorità portuale di Livorno che riferiva di aver ricevuto una mail apparentemente inviata dal presidente dello stesso ente portuale con la quale veniva chiesto di disporre un bonifico di 29.850 euro in favore di un conto corrente olandese. Gli investigatori hanno immediatamente accertato che la mail non era stata inviata dal suo presidente ma da qualcuno che attraverso tecniche di social engineering aveva violato la sua casella di posta elettronica per disporre il pagamento fraudolento. Questo ha permesso agli agenti della polizia olandese di fermare l'uomo, un 41enne nigeriano, proprio nel momento in cui si presentava presso la filiale della banca per incassare la somma accreditata sul suo conto corrente. L'uomo che abita in Germania nei pressi della frontiera olandese ha confessato inoltre di essere stato incaricato più volte di prelevare somme di denaro dal suo conto corrente, dove la polizia ha anche accertato la giacenza di ulteriore decine di migliaia di euro. Le indagini proseguono inoltre per verificare se l'arrestato sia collegato a più vaste organizzazioni criminali.